Benvenuti nel mio canale, qui è WalkingDread e proseguo la mia missione con Shadow of Mordor Gioca, continua la modalità storia Dai dai ramingo Saltiamo Facciamo il punto della situazione, allora No, non fare il viaggio rapido, devo vedere un attimino la mappa Avanza tempo Ok Eh, giustamente loro aumentano di potere, ma ti pensi che gioco che hanno fatto Questo è stato promosso Questo Ma sì Qualcuno che prende il posto, non lo so io Eh, quello è morto Questo, oh, cambiamo la selezione Marchia il bersaglio Marchiamo il bersaglio Ma non importa sapere che cosa fa Tanto questo lo ammazzo subito Intergo non prendere il muto RB più A Per scoprire l'identità RB più A Ok Nuove missioni disponibili Comunque a me mi serve sempre la mappa Perché dovevo avanzare il tempo Che qua se mi avanza il tempo Utilizzo una pedia Ma scusa Ma Ah, giustamente Perché non mi Non so Non ho l'anologico, giustamente Mamma mia Che testa che ho Ok Ho sbagliato a fare avanzatempo Come al solito Noi dobbiamo andare Da un boss Adesso Tutte E trovare il boss Novità, novità Lì ci sono i vari equipaggiamenti Vari novità Io preferirei andare da questo Fare carriera La fama di potere di Hatt Basta aumentando Quasi come la sua vita Fallo sopravvivere E ti farà avvicinare Alla mano nera di Sauron Ok Direzione questa A 559 metri Lì c'è il boss Non è sfrutto Banchetto Avviamo questa missione Gli Uruko organizzano banchetti Per cercare grandi imprese E fare gara Per vedere chi regge più grog Se indisturbato Il capo accrescerà il suo potere Accetta subito È tempo di riempire le panze di grog Sì sì Ti faccio fuori Quelli falli allontanare Meno impressionabile di altri Ma vedere la testa di Pugrish Sparsa dappertutto Non è stato un bello spettacolo Adesso vedere i belle molle Lavorare Finché non gli sanguinano le mani Sentite Così ogni fuori L'ho trovato Ancora un altro metro Raminga Quindi dobbiamo rifare Tutto da capo Non ti aspetterai Un risultato diverso Dai dai cammini Vediamo chi è il migliore Alta là Distruggiamo il tappi Via via da qua Via 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 Andiamo a prendere un'erba Se no qui Ci fanno il culo Ci fanno il culo Via 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 Ci fanno il culo Via Ci sono anche in troppi Giusto per la cronica Per la cronica Porca miseria Porca miseria Via 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 non l'ho trovata eccola ok diciamo che quello è un po' difficile abbatterlo perché? perché? perché è difficile perché non riesco a piggiare comunque ne ha tanti di alleati quindi un po' non se riesco a sfrecciarlo e non è e poi è rimasto dentro lo facciamo così vai pensaci tu grande rapporto battaglia via cioè for me capì poi se ritorni ok questo l'ho marchiato y vulnerabile colpi di grado punti vulnerabile colpi di grado vulnerabile attacchi vulnerabile convocatore attacco rapido rigenerazione e corridore veloce ok che non è questo si può fare ragazzi questo si può fare bravo bravo pensaci tu perfetto grande e spezza ossa a casa grande bestia ti si scaputta ok questo lo abbiamo marchiato un momento sì sì va bene quello l'abbiamo marchiato perfetto a noi non ci rimane che fare quel discorso un po' vago perché caspita amari via via da qua via 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 nessuno ci insegue su questo stradone però io ce l'ho da prendere questi umani sono sorprendentemente robusti persino in gabbia dobbiamo essere più severi aiuto aiuto Questa probabilità si tratta di recuperare 25 punti quando si uccide un nemico facendogli esplodere la testa Recupera quanto deve essere cento contro il secondo con un'accessione furtiva Ecco questo Via Vediamo se ce ne andiamo Non puoi ucciderci tutti, umano Tutti no, ma da una parte La mia destinazione è qua Per incontronto ai guerrieri Hulk gli umani sono vermi, degni solo di morire il più dolorosamente possibile Allora Al prossimo globe che batte la fiacca sotto il mio comando Apro la pancia e faccio mangiare la colazione un'altra volta Allora Gli Uru combatte fino alla morte per dimostrare la loro ferocia per eliminare il rivale Chiunque fugga o muoia verrà dichiarato perdente Mentre il vincitore crescerà al suo potere Invadi il duello per indebole esagere Possiamo provarci Possiamo provarci Ti toglierò di mezzo facilmente Non sei nessuno al mio confronto patetico verme Lugnak Lugnak E' pazzo Non sei nessuno al mio compi S significhe Mi piacciono Sono il migliore Ho visto qualcosa muoversi Non mirando Che cosa? Come hai visto ciò? no 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 merda ah non importa io devo far fuori questo molto bene combatteremo sotto gli occhi dello scuro signore per combattere tutti veloci ragazzi vi servono l'intruso andate ad accendere il fuoco uno di voi aperta gli altri mi serve aiuto fatelo piangere no accendi il segnale ferme le tue nocche diventeranno degli ottimi dadi facciamo recuperare un attimo l'energia poi vedremo ce lo sapremo ridire ce lo sapremo ridire tra un po' non mi piace questo è a posto ora tu l'energia non la recuperi bravo bravo nemmeno le bestie selvagge mi uccidono ora scoprirai del che scuro spezza ossa è tosto scuro spezza ossa è tosto e a me mi serve qualcosa per porca miseria a me mi serve aiutare un attimo l'energia a me mi serve aiutare un attimo l'energia che è in più e c'è già qualcuno che rompe e c'è già qualcuno che rompe e c'è già qualcuno che rompe quella è una missione con gli arcieri però non quello è a posto questo qua si lo cavallo facciamo così intanto qua non abbiamo un problema cos'erano tutti quei singhiuzzi? niente niente tranquillo dovrebbe essere felice hai tenuto una mano per domani e la gamba per topodomani la c'è un coltello da poter andare a riprendere non è che il migno è di quello sconfitto è di quello sconfitto è di quello sconfitto c'è qualcuno che si nasconde tutti addosso state lontani dalle sue mani accendo il segnale non so cos'è stato accendo il segnale non so cos'è stato probabilmente nulla stura di le orecchie o momento sento un odore questo look è stato ucciso guarnigione non c'erano solo comunque restiamo in guardia quello il maestro d'arcieri è andato ragazzi armi rune di terrorizzare più di due ur con un'occessione di violenza forse questo è meglio equipaggio lo devo equipaggiare ok facciamo il punto della situazione qua bisogna andare ad interrogare però qua c'è delle novità e qua c'è questo è spezzosa e tosto adesso bisogna andare a recuperare guarda stanno tutti lì cosa ne pensi del nuovo capo non l'ho ancora inquadrato ma mi sembra piuttosto di quello che c'era prima dai scendi scendi ok devo dare un'allora faccio le informazioni ecco l'ho ancora combattere combattiamo credo di aver sentito qualcosa credo di aver sentito qualcosa credo di aver sentito qualcosa ehi è un amico la brava mi abbassi qua c'è solo un mascello quindi l'unico andare qua a fare questo la fama di pedriata nella sua montagna così fanno la fama di pedriata e ti farà avvicinare e lo chiami duello? no! lo chiamo perdere un duello globe qui qui eh? va bene io mi metto qui facciamo in fretta o perderà la testa esatto ammetto che l'idea mi ha fatto acceca tutti i suoi occhi e la bestia non ti vedrà basta senza carburante hanno dovuto dar fuoco a qualche umano finchè non sono arrivati i rifornimenti l'odore mi ha messo una fame e i rifornimenti dove è? accaccia all'azienda e poi gli scavi a tenere d'occhio gli schiavi senza farti scoprire eeeh l'alleno questi vermi non sono meglio dei tarc come te mostrerò a tutti quanto poco valgano cos'è stato? portami da parte portami da parte guarda ospia ragazzi quanto è tosto ne ho sbagliato l'abbiamo perso mo sono aumentati tutti di potere un casino quattro scienzi per lo sbaglio ci sta spiando questo non è un problema farlo fuori io non ho visto niente stavolta toccano la tua testa sono settimane che non c'è un'esecuzione non puoi giustiziare Ratbag solo perchè ti ha noi chi lo dice? aspetta ho visto qualcosa avremmo dovuto giustiziare Ratbag prima quando è nato la morte di la morte di Goroth è il bugiardo di Mordor di laberinto ammetti che non hai ucciso Goroth e non userò la lama senza mano ah sei lì quando sarò comandante girati 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 ratbag è un bugiardo basta ti sfotterete quando non ci sarò più credevo che saremmo andati a caccia invece è tutto a un tratto mi ordinano non ci piacciono gli orchi che rubano tutti gli orchi rubano anche tu ma io non vengo peccato un altro arciere morto ne resta solo uno Goroth ti avrebbe distrutto Ratbag se l'è voluto quello schifoso traditore bugiardo blavi gridete magari distruzzate con le vostre lingue ti daremo un'altra occasione per ammettere che non hai ucciso Goroth e dirci chi è stato beh senza testa sarà più intelligente oh ratbag avresti dovuto smettere mentre eri in testa ratbag è uno con la testa sulle spalle ma ancora per poco sei mio e questo l'abbiamo fatto intanto è lui lasciare in vita lasciare in vita Ratbag è una parte spiacevole del piano meglio fare in fretta odio quando andiamo a caccia Ramingo questi vermi non sono meglio dei Tark come te mostrerò a tutti quanto poco valgano sangue uccidiamolo prendetelo a me spalle non smetterò di inseguirti cotardo vediamo perché se trovo tutti qua arrivano lasciu lasciamolo guarda gli arcieri che c'è stanno il pelle rosa se ne è andato guarda gli arcieri che c'è oh dio non è che ne siete rimasti il ramingo sa che siamo troppo forti per lui qua mi serve un'erba l'erba ce l'ho proprio davanti ai miei occhi no l'erba sta di qua solo perché non l'abbiamo visto non vuol dire che non sia qui allora RB io non ho paura dei Caragor la prossima volta che ne trovo uno imparo a cavallarlo non è il ramingo il capitano è sparito di nuovo che ne dite di approfittare dell'occasione sono felice che ci siamo liberati del capitano era un inutile shrak chiaro altrimenti non sarebbe stato fatto a pezzi da un Caragor il suo rimpiazzo non sarà così debole era ora che ricapitasse un capo degno di nota qui ho sentito dire che forse ci mandano via da qui io no ho altri ordini che ci mandano via da qui e l'accio 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 non farmi perdere tempo combattì mi ha delenato davvero Oggi gli arcieri fanno delle esercitazioni Spero che siano migliorati Quasi mi infilzavano la gamba l'altro giorno Con quella loro mira Il Tark deve essere andato via Ok, qua non c'è nessuno Quelli sono tanti Cosa erano quelle urla? Sembra che qualcuno abbia fatto arrabbiare Tarek Uno schiavo l'ha spinto nel fuoco Il suo grog si è acceso come una torcia Ma Tarek l'ha seguito come se niente fosse Anche se era in fiamme L'ha picchiato a morte Con le mani che gli bruciavano Beh non ne sono rimasti tanti Però è difficile Non ne sono rimasti tanti Usa colpi di grazia di combattimento Può essere ferito dai colpi di grazia Può essere ferito dall'esplosione Ma è lui Qualcuno ha ucciso questo Uruk L'umano Fa male Glob Così non supererai mai la mia guardia Un degno avversario Quando la sua di un capitano Diminisce Puoi afferrarlo Tiene prunuto RB E afferrarlo E premi A Per interrogarlo Ricorda che è possibile Interrogare solo i capitani vivi Ok A te Ti mangerò per Non resistermi Ah è quello sotto Ah è quello sotto Questo legame indica Perché Brog è la guardia Del corpo di un comandante Sconosciuto Usa L per eseguire il padrone di Krog Deve interrogarlo Un capitano O un Vermel Quando adesca un comandante Allo scoperto Ci saranno Anche tutte le sue guardie Del corpo a difenderlo R.T.L.I.T. Perfetto O colpo d'ombra Ok E lui è a porta Ecco ragazzi Questo si che è un lavoro di squadra Questo gli facciamo la pelle Forse no Prima che io cambi idea E il nostro accordo L'accordo finisce qui Boh Se insisti Ma pensavo che Va bene Aspetta Aspetta R.T.L.I.T. R.T.L.I.T. Guarda Quando il comandante saprà Della mia vittoria Mi vorrà Come guardia del corpo E io cosa ci guadagno? Un traditore È sempre utile Io mi occuperò Di uno dei comandanti E tu Uccidi gli altri quattro Da solo Poi Ci rincontreremo Al campo di addestramento Farò in modo Che il comandante Sia Questo ragazzi Mi Mi tradirà Lo so Che ne dici? Fai in modo Di tenerti la testa Sul collo Stavolta Ma certo Cioè È il mio piano Porchi R.T.L.I.T. 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 R.T.B.G. ci ha fatto scalare le gerarchie Senza pensare al pericolo Possiede un'inclinazione naturale al fallimento Uccidi i comandanti Sblocca abilitare Sblocchiamo un abilitare Mi sa che non c'è niente da sbloccare Perché Ok Questo l'abbiamo sblocchato Ok Sì sì Non Questo Va bene così ragazzi Gli appendici Non Non Mosche morgai Comunque Andiamo avanti Bisogna andare a interrogare Giustamente quello Sblocco E' una cosa Che ci dobbiamo informazioni Su questo mozza testa ops lì vedo che c'è un gran casino mi sa che il mozza testa questo non sarà facile ammazzarlo guardiamo se è fattibile comandante veterano mog l'altro gemello sentite non c'è bisogno di uomini venite oggi questi uccelli mangiano già abbastanza maledetti quando sarò comandante questi uccelli mangeranno voi hai visto puoi tirarmi giù sto bene non mi sono fatto niente se ti so cosa stai pensando non è stata colpa mia vado dal capo a dirgli che ho ucciso la guardia del corpo quello si gira e ha la faccia identica al verme che ho che abbiamo appena ucciso gemelli chi l'avrebbe detto devi farti vivo per prendere il posto del comandante morto ma il comandante non è morto lo ucciderò io buone via allora ti seguo funziona una piattaforma d'addestramento vediamo come se la cavano davvero i soldati del comandante scuoti una gabbia e tira fuori la bestia uccidi un berserker un uccisione da sporgenza ah ho capito forse ho capito se Ratbug riesce a diventare comandante sarà solo questione di tempo prima che ci conduca alla mano nera Ratbug ha ucciso Goroth e pure il Boia com'è possibile? quelli erano degli Uruk fortissimi non ci credo che Goroth sia morto è un conto ma pure il Boia? se Ratbug è davvero un campione mi taglio la gola da solo Ratbug ha massacrato in capitale forse è un vero Uruk in fine conti il comandante era fuori di sé per la morte di suo fratello più che altro perché l'ha ucciso Ratbug ti sarebbe dovuto R R e T R e T vai butto hai sentito anche tu questa è la cosa eh in due però no eh non sei un berserker ma va bene uguale vieni vieni ok ok Ho sentito qualcosa, eh? L'ho visto! La prossima volta è morto! Quel razzo che sta spiando! L'ho sentito! Ma non lo fai questo! Ci potrebbe essere di tutto là fuori! È nero come la peggio! La piattaforma d'addestramento? Dove cazzo è? Tenete gli occhi aperti nel caso in cui arrivi senza morte! Se lo uccidiamo, saremo tutti i capitani! Al diavolo! Voglio essere comandante! Se lo uccidiamo e non si rialza, usciremo da Mordor di fianco all'oscuro signore in persona! Sono secoli che non vedo il capo! Dove c'è nascosto? Sotto una roccia! Insieme agli altri vermi! È il capo peggiore che abbiamo mai avuto! Ma è il capo peggio! Ma è il capo peggio? È il capo peggio! Ti ho quasi preso! Perchè non vuoi affrontarlo? Eh! Questo è tosto ragazzi! Il dolore del mio gemello è che c'erà in te! Svazzate la terra! Scamardo di un uomo! È fuggito! Mi serve un'erba! Mi serve un'erba! Non so se mi basta! È tosto questo! È tosto! Il dolore del mio gemello è che c'erà in te! Preparati a morire, Ramingo! Sei spacciato! L'aglio qualcosa ti è posto! Sono solo l'aglio! Di sicuro! Senza lui! Hai sempre paura di tutto! Oggi fu... Secondo me, era il Ramingo! Non importa! La luce causa forse di questo! Andare al diablo! Beh! Se era qualcosa! Sarà meglio stare alla lanza! Non mi piace questo posto! Non mi piace questo posto! Sì, non puoi riuscire. Una buona morte Nel nome di Sauron Grazie Ramingo Forse erano solo ratti Non abbassiamo la guardia Potrebbe tornare Sei morto gemello Mitica, mitica scena Finalmente Sono un comandante Ramingo Abbiamo vinto Ora rispetta il nostro accordo Stai tranquillo Il comandante Ratbug Farà in modo che nessuno Rovini il tuo piano Bene Ma non posso parlare Per gli altri comandanti Non preoccuparti di loro Mi daresti la tua Mi serve una lama migliore Esattamente 600 e tutti L'abbiamo fatto 70 di potere Ok ragazzi Ho sbloccato il livello 3 Qui tanto Vabbè sì Posso fare qualcosa qui Sblocco uno slot runa Nella tua spada Ok Acquio Mento sbloccato Missioni principali Ok Niente Qua non si può sbloccare E' a posto Qui Tutto A posto Per ora Ok Ragazzi Io La termino qui Se vi è piaciuto il video Lasciate un like Un commento Iscrivetevi Se vi è piaciuto tutto Se vi piace il mio canale E bye bye Alla prossima